Ciao Valerio, grazie per la nomination, anzi scusa per il ritardo. Io già li sostengo, infatti li ho invitati, ho invitato tutta la squadra che partirà a luglio per Los Angeles, a giugno in Regione Lombardia per salutarli e fargli un grosso in bocca al lupo. Però bisogna sostenerli concretamente, quindi fate come me, fate una donazione sul sito specialolympics.it e mi raccomando è molto importante. Ah, devo fare una nomination anch'io? Nomino Yuri Keki. Ciao!